La parola che proponiamo è peuta. Cos'è la peuta? È un segnalo lasciato a terra del peo di una persona o di un animale. Seguinti le peutas sono arrivati alle stane di conigli. T'eras amagato bene però t'havien trovato lo mateix. Avies lasciato a terra massa peutas. La consonante R diventa mura quando si troba en nomi che acabano en d'or come giugarò, espulsarò, bufarò. I quando si troba davanti a una consonante la pronunciem Ela, Balca, Buldel, Algira, Gialmà.